Il neopresidente di Città Slow International, sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, ha scelto Pianella come prima uscita istituzionale. Presso la sala del Consiglio Comunale ha incontrato i sindaci di Città Sant'Angelo, Controguera, Guardia Grele, Francavilla, Almare, Penne e Giuliano Teatino. Città Slow, nata e ispirata dall'Italia, ha come obiettivo quello di preservare lo spirito della comunità e allo stesso tempo trasmettere la conoscenza alle nuove generazioni per renderle consapevoli del loro patrimonio culturale. Tra i principali temi affrontati quello del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, strumento molto utile per costruire il futuro dei borghi slow. Proprio il PNRR propone sotto il profilo operativo interventi di rigenerazione delle città e del territorio, digitalizzazione, infrastrutture energetiche, progetti per la formazione, la ricerca e la cultura, progetti di inclusione sociale, diritto alla salute e la difesa del biodiversità. In Abruzzo perché è una delle regioni più dinamiche e anche perché a livello internazionale in questo momento è un po' impossibile lavorare per Città Slow. Città Slow è questa meravigliosa realtà internazionale che raggruppa oltre 300 città in tutti i continenti, ma in particolar modo qui in Italia. Città Slow non è solo un modo di essere, è saper fare, saper amministrare, lavorare per il proprio territorio basandoci su alcuni principi, quali la sostenibilità, quali la tutela della biodiversità, quali l'agrobiologia, quali la resilienza e via dicendo. Tra l'altro tutte tematiche che sono inserite nel piano nazionale ripartenza e resilienza e noi ne siamo assolutamente fieri perché non sono tematiche per noi nuove, sono tematiche nate oltre 20 anni fa che continuiamo a portare avanti. È un incontro assolutamente proficuo, grande progettualità e la soddisfazione di vedere la filosofia Città Slow che finalmente viene tradotta in atti ufficiali dell'Unione Europea prima e del governo italiano poi. Leggere i messaggi di sostenibilità, di valorizzazione dell'ambiente, di attenzione ai borghi e alla sanità di prossimità sicuramente ci riempie d'orgoglio, ci investe di grande responsabilità perché sappiamo come Città Slow di aver già realizzato concretamente molte delle progettualità che il PNRR si propone e quindi dobbiamo e vogliamo essere partner di questo epocale cambio di passo e cambio di visione della politica dei prossimi anni in maniera come sempre propositiva e costruttiva.